A me dispiace un po' per Mattia, perché io ci credo nel fatto che lui comunque abbia un interesse verso quella persona, ma dall'altra parte, secondo me Mattia si è fatto male ai conti. Sì, ha fatto due idee sbagliate. Che cosa pensi di Alex? È una delle poche persone che stanno là dentro di cui non mi sono fatto ancora un'idea chiara. Evidentemente questa cosa deriva dal fatto che lo trovo un pochino insignificante. Cioè si è parlato di Alex fino a questo momento soltanto del fatto che voi vi conoscevate già, ma per il resto non si è parlato di niente. Comunque mi sono fatto sto viaggio con i miei abuta per staccare un po' la spina, ma che comunque non ci sono riuscito del tutto, nel senso che con la testa stavo qua. Che pensai? Pensavo a te. Comunque sono giunto alla conclusione che sono contento di essere venuto qua a fare un momento. Anche perché sta andando bene questa conoscenza con te, quindi tu ci hai pensato un po'? Sì, ci ho pensato, ho pensato alla nostra esterna. Cioè sono tornata a casa dopo quell'esterna felice. Anche io. Ho pensato anche all'avvicinamento che ho avuto con te, che non credo di aver avuto dall'inizio con nessuno là dentro. Pure per me è stato così. Ti voglio far sentire la canzone che in questi giorni mi ha un po' accompagnato, che sembra praticamente cucita addosso il nostro percorso. E' inaspettata anche, molto carina. Poi tu, ti ho aspettato. Però sei più bella. Sei bella, e sei pure dolce. Fa bene, diciamo te. Grazie. 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 Grazie.